Musica Tutti in campo al Franchi a 48 ore dalla sfida contro la Lazio Che si discuterà sullo stesso terreno di gioco a partire dalle 15 di domenica prossima Un allenamento dedicato soprattutto alla parte atletica e poi a quella tattica Con particolare attenzione al lavoro sulla gestione dei palloni inattivi e sui movimenti del giro palla Domani alle 14 la conferenza stampa della vigilia per il tecnico Viola Dopo che in mattinata i giocatori avevano partecipato alla manifestazione legata a Save the Children Denominata il viaggio del palloncino Musica A Grazie per la visione!